Al Faso Magliocco si è sciolta ogni riserva su Pierluigi Proversi, è il momento di cominciare, da dove si può cominciare? Innanzitutto per recuperare il tempo perduto. Diciamo che le riserve sono state sciolte tutte e adesso è il tempo di cominciare una campagna elettorale sulle cose da fare e il candidato Proversi sicuramente ha le idee molto chiare come noi sulle cose da fare per risollevare le sorti di questa città. Oltre al candidato Sindaco, decisive saranno anche le liste? A che punto siete? A buon punto saranno liste dove saranno pochi i consiglieri comunali uscenti, c'è necessità di un rinnovamento del Consiglio Comunale che in questi ultimi 5 anni non è riuscito a svolgere appieno la sua funzione. Quindi diciamo che abbiamo deciso di puntare molto sui giovani e quindi ci saranno molti giovani candidati nelle liste. L'ex ministro Sacconi ha parlato di un duello a due Proversi-Cialente, è questa l'ipotesi più verosimile oppure De Mattes può fare da terzo incomodo? Ma in questi giorni si è detto tutto e il suo contrario, noi facciamo la nostra campagna elettorale, gli altri faranno la propria e alla fine vedremo. Grazie. Grazie. Grazie.